ciao ciao un momento non è che è facile per me stai bene stai bene non sono un po teso perché non è che faccio sempre questo scusami ciò sto cercando di parlare lo sai che fanno i controlli stasera non lo so non hai sentito la tv no c'è la polizia sono passato prima c'era la polizia prima dove? girati qua qua entri qua adesso sei un poliziotto cosa? ma che? e secondo te prendevo te come ti chiami? claudia claudia e? antonio che c'è? ciao ma sei italiana? come? no no non sono italiana e parli l'italiano e la so di dove sei? albania albania si vabbè sono stata prima in italia però non per fare questo lavoro lo facevo a badante a lecce a lecce e come ti ci trovi qui? e mi servono i soldi ma fai anche la badante scusami tu cioè se uno ti propone un lavoro che non è quello della prostituta la fai no perché mi servono i soldi ecco la badante ti pagano no? e quando ti pagano 700 a me mi servono di più perché devo pagare il tribunale in albania per prendere la mia figlia c'è una figlia ma quanti anni hai? 23 23 anni c'hai già la figlia? hai fatto 16 anni cioè non puoi fare la badante se casomai mi serve una badante a casa? no non vengo perché l'ho smesso il badante sennò c'ho l'agenzia a lecce che sta lavorando anche la mia mamma come badante? sì perché guarda che è comunque un mestiere rischioso questo che ti ho detto perché mi servono di più i soldi? eh ma quanti soldi? io devo pagare 9.000 euro quasi 10.000 euro per pagare il tribunale perché mi ha preso il mio ex marito ma il bambino che ce l'ha? lui in grecia e tu per prendere il bambino? bambino 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 e devo devo fare il tribunale mamma mia ma quanto si guadagna a fare questo mistero? non so penso 2 anni no tu 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 quanto guadagni? come quanto guadagni? quanti soldi prendi? ma vabbè dipende se non ci sta lavoro quasi si può fare anche 30 no anche 100 o 50 o 60 dipende anche 300 se vai in albergo ma con un cliente 100? eh se vai in albergo si vabbè di solito un giorno quanto guadagni? di solito meno se lo fai quasi 200 se non li fai 150 e basta e sono tutti tuoi? fermi! cioè li li tieni tui non li devi dare con nessuno? no no che li dico? che li do? mando la mia famiglia a casa o la mia figlia e niente? fare l'amore è così facile credo amare una persona fragile meno